Siamo qui con? Mi chiamo Claudio Cancelli. Mi occupo di questo problema da una ventina d'anni, nel senso che ho cominciato quando ancora un movimento popolare vero e proprio non c'era. Avevamo fondato un comitato che si chiamava Habitat, che aveva come scopo, diciamo, come fine quello di intervenire sui problemi critici della valle, da un punto di vista ambientale critici. In realtà era un comitato fatto essenzialmente di persone che si occupavano di questi problemi per ragioni di mestiere che abitavano in Val di Suda, quasi tutti i professori universitari, quindi la verità. Una cosa curiosa è che di questo comitato faceva parte anche l'attuale presidente della regione Piemonte, senza nessun polemico, ma a un certo punto l'abbiamo espulso. Il movimento Notav come movimento popolare è nato, è cresciuto lentamente, io non me ne sono neanche accorto fin quando non è esploso nelle prime manifestazioni di massa, se devo essere sincero. È stato un fenomeno che per me è stato inaspettato e che ha delle ragioni, probabilmente intanto nell'attaccamento a questa terra degli abitanti di questa valle, che è veramente fortissimo. Io sono un immigrato e l'ho trovato, ma già i miei figli che sono nati qui hanno un rapporto con questa terra, questi monti, insomma, fortissimo. Anche ora che uno di loro sta a 600 km di distanza, si sente legatissimo alla valle. Questo può essere stata una componente, è stato quasi sicuramente il fatto che piano piano qui si è formata la coscienza che l'opera sarebbe stata devastante per la valle, che è assolutamente vero, ma ha richiesto un qualche tempo perché si generalizzasse questa opinione, adesso è molto difficile da sradicare, non bastano le scemenze che vengono dette dai promotori per convincere le persone che non ci saranno problemi di questo tipo. Alta velocità